musica 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 allora siamo qui a raduno salve buonasera qui abbiamo i retroplayers una parte dei retroplayers esatto qui abbiamo open lì non so chi sia è uno che è bello pablo ciao pablo è un video esatto ci abbiamo ramona ciao ambrogio ambrogio ciao 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 ragazzi ciao salve 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 facciamoci un giro facciamoci un giro facciamoci salve 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 ciao giacomo ciao ciao non capisci nulla ok ci vediamo troppo bello sì 22 21 sta andando all'indice allora il problema è che mi hanno detto guarda è stata fatta la prima salsiccia per te io grazie ma non c'era bisogno questo è tutto da basco ora però ho preso te ciccio però visto che voi non vi fidate ora ci divertiamo ah hi lui mi Hall Heavy i lavori io non c'è è di vorrei come me CLIP come è prendo il pane e reso i grazie io gli ho detto prendete questa è la salsiccia è un piccolo è un antico d'oreo è un po' zio ma non vuoi fermare allora allora questa è fatta un bicchiere più di un bicchiere è tutto amore loro lo seguono ah ce lo siamo diviso ma no ma rivengo è preparato da nastro lindo abbiamo fatto in cooperativa il panino e tu non registrai no guarda qua ragazzi ho mezza peiotta a salsiccia non è salsiccia perché? arriva dopo accelera che non ci hai cazzato no no ma è frizzante prova a berti la birra così no 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 bello sto meglio ciao si ma se io chiamo 1 e 3 sono più qui stiamo per incominciare a giocare e sanza fa il portabandiera stiamo cominciando eh stiamo per incominciare 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 guarda ora se per tornare indietro mi ammazzo eh tu non sei così e non ci sbaglio due ma adesso non ti ho faticato mi na甚麼 allora squadra 1 metti 3 di là 1 di là 1 di là 1 di là abbiamo 3 coppia corri da solo corri da solo vieni da qui ma io faccio un passo e gli arrivo io faccio un passo e gli arrivo faccio un passo e gli arrivo guarda quanta gente ok stiamo per organizzare un mega fantastico il gioco non sappiamo di cosa salutate grande ma lei pensa di vincere gli rupper culo a tutti però stare a banda sono un po' una sedia devi scureggiare Slender devi fare una pozzetta andrà proprio a cagare è differente oh salve 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 che pensi la pistola dovevo stringermi con il mio giocante e' tutto ci state? e' tutti attenti? che facci? io sto a registrare io sto pronta allora ci avete i numeretti in mano quelli che ho dato prima? io no io ce l'ho dentro un po' allora questi qua gentilmente ce li ho offerti quindi lauppeggi Italia facciamoli vedere adesso per fare la cosa tutta eh facciamo l'estracione faccio la ripresa la terza persona e' muciniamo va muciniamo non ce l'hai aspetta c'è ragione e' me ne riserve quell'altro ma ci sono i doppioni no ci stanno quelli che non sono stati dati e' come fanno? piano piano no ce stanno due ci stanno due bicchieri io ti do questi e lui c'è un altro un altro lao io ho quattro numeretti addirittura non ce l'hai? non ce l'hai? non ce l'hai? sicuramente dovremmo rifarlo un po' di volte perchè non tutti se ne avevamo fatto 140 allora ce l'avete tutti? sì solo due vincono eh vediamo a chi vanno questi osblive 2 analog video digital ma hai detto tutto il nome? ci sta il numero 98 98 98 98 98 non c'è siamo fatti 140 qualcuno c'è il numero 9? perchè saranno scritti sì 9 ok 6 6 6 6 6 la batteria sta lampeggiando in una maniera troppo troppo alien e dai dai devi esultare devi esultare ti grazie mille augmente è normale che lampeggia tutto su questa cosa perchè si sta scaricando sto spaventato vabbè poi modi mi passa eh allora vogliamo fare un grande applauso anche alla Cooler Master che ci ha dato grande Cooler Master che ci ha dato dei gadget che adesso metteremo un palio che adesso metteremo un palio e anche un grande applauso alla Upage Italia un grande applauso ragazzi un grande applauso ora vediamo un po' che ci organizziamo come sono le salcicce Manuel? sono buone sono buone io vado un giro a sentire sono buone le salcicce? sono buone sono buone sono buone adesso ne arrivano altre ce ne abbiamo 150 come va la pancia? buona se la vuoi l'acqua liscia? l'acqua liscia ci stiamo mangiando le salsicce adesso io non voglio fare il tabasco perchè a me in malattia metà pagina mi hanno dato abbastanza il tabasco ci sta ci vuoi? qua si continua a mangiare anche io come sono? buone buone? in cui? ok e riportetemi Marco e Danilo ciao Marco e Danilo ma tu non c'è una palla? ma dico quello che ti pare non c'è una palla tu cosa ti metti su youtube o su facebook? su youtube mamma va bene? progamer tiè ambrosio? ok ho fatto ambrosio? eh guarda le salcicce sai che farei anche io? ma reggi un attimo si scarmato mi raccomando ci sarà la pistola mi raccomando mi raccomando mi raccomando mi raccomando si penso di si pensate si buone scendiamone un altro coppiamone un altro per sicurezza farò una strada guardate che spettacolo di gente tutti a mangiato stanno il loscetto t'hanno dato? che ci si fai con quello? vabbè io ci ho messo mezz'oretta allora questi panini tu? mangiati? ma mi rifai vedere la maglietta dietro per favore? cioè ragazzi dico non vuole di niente vabbè che l'ho anche fotografata mi sembra il minimo guardate che maglietta ragazzi questa persona guardate che occhi guardate che viso guardate che roba cioè poi con quella maglietta irresistibile in-resistibile se lo volete contattare chiamate il numero a sopraimpressione la madre è la... giusto Francesca? c'è un monsiccio che è nuovo 66 66 66 hai mangiato? sì guardate che c'è... guardate che c'è stanno l'artre eh l'ho mangiato no no c'è stanno l'artre ragazzi sono 200 ne hai prese 150 in più me l'hanno anche portate gentilmente quindi capirai si mangia poco si ragazzi con la tuta da motociclista no no tu mi hai portato la tua robetta ok? ti guardo del tubù mi sono permesso ok ok quindi salutate ciao ciao Dubbo ciao Dubbo ciao Dubbo ciao Dubbo c'è bene Dubbo mi raccomando sono Ciccio Gainer se il video ti è piaciuto lascia il pollicione se non sei un corduco e se non lo lasci stai pur sicuro che prima o poi ti si incula un paguro oh yeah c'è